Buongiorno, Chad. Buongiorno, Phil. Uscire dal guscio per coltivare una passione. Tutto pronto sulla griglia di partenza. Che sta dicendo? Il lento cammino di Theo verso la felicità. Come hai fatto? Incredibile, vero? Ti rimetteremo in cesto. No, niente che non vale. Rallenta un momento. Scherzi? Dagli autori di Madagascar e Kung Fu Panda... Non rallenterò mai più! Turbo. Sabato alle 21.10, Italia 1. Brivido eccitante della velocità. Oh, no!